Una biblioteca comunale che sorge significativamente in un edificio che fu dei gesuiti, ricordando le tante contraddizioni, le tante posizioni ambigue dei gesuiti nella realtà siciliana, ma anche ricordando la capacità di denuncia di Leonardo Sciascia che aveva fatto della libertà la sua stella polare, quella stella polare che indicava agli altri e come tutti gli uomini veramente liberi, di volta in volta definito eretico dagli ortodossi, spesso mafiosi, definito eversivo dalle istituzioni che avevano il volto della mafia, definito ancora una volta pazzo dai saggi succubi del potere mafioso. La mafia sì, una generazione intera, la mia generazione ha conosciuto la mafia non come crimine ma come contesto, come un sistema che produce altri sottosistemi grazie agli scritti di Leonardo Sciascia che ha disvelato in tempi difficili le contraddizioni e l'ipocrisia di un sistema di potere e così da fra Diego alla Batevella, sostanzialmente fino all'affare Moro, la storia viene ripercorsa e rivissuta in nome della stella polare della libertà. Essere qui a ricordare Leonardo Sciascia è un modo per ricordare quella libertà che abbiamo il dovere oggi di coniugare con le guaglianze, con la fraternità.